Buongiorno ragazzi, nuova Endurata, oggi si porterà il passo di un TN400 per far conoscere un po' i posti qua vediamo già belli carichi, un po' di riscaldamento buono, siamo già piedi un po' di sottobosco così è caratteristico wow tanta roba vai vai stiamo passando un giocino qua stupendo grazie va chiuso è un muro proprio così c'è un saltino riproviamo voglio riprovare questa wow atomica andiamo qui a me bello bello che è un po' di sottobesco che è un po' di sottobesco per il gioco per il gioco è un po' di sottobesco che è un po' di sottobesco questa è impossibile ragazzi la troverei ma non ho il paramotore sotto quindi nada che è un po' di sottobesco guarda 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 ma ditemi che vi porta questi posti assurdi viene ragazzi mi sta ammurando la gotro non è tornata ragazzi ragazzi no no vecchio vengo lì non si posso credere come togliere l'acqua poi speriamo bene dobbiamo farcela questa è la volta buona vai di pedalina era buona vai vai mettiamola un po' su costa speriamo potremmo tentarla ha spinta si è spinta vai 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 vai